Tempi duri per tante persone a Teramo, poche le risorse finanziarie, le abitazioni scarseggiano e la povertà dilaga. Il comune corre ai ripari e pensa di realizzare un dormitorio dove poter ospitare chi non ha né un tetto né un letto. La prima sede a cui si è pensato è quella dell'ex centro femminile in via Molinari, ma si cercano altre soluzioni, più ampie, come spiega l'assessore comunale al sociale Ilaria De Santis. I tempi sono così difficili da dover pensare a un dormitorio per Teramo? I tempi sono così difficili, ma devo essere sincera, anche nella fase pre-covid, pre-emergenza sanitaria, il problema dell'abitare per quelle persone che magari non hanno un reddito molto alto, magari sono persone single, che non hanno una rete parentale, c'è sempre stato. Tant'è che molte volte è la carità a se stessa o le altre associazioni che lavorano sul territorio in maniera molto silenziosa che prendono in carico queste persone e le fanno dormire nelle strutture recettizie che abbiamo, come i B&B oppure altri hotel. È un problema grande, è un problema che si deve risolvere, infatti proprio in questi giorni, soprattutto con l'avvento della pandemia che ha creato una nuova povertà, una povertà che io speravo rimanesse emergenziale, che invece stiamo notando sta diventando strutturale. È un tema che stiamo affrontando proprio in maniera fattiva insieme anche alla Caritas e altre associazioni per considerare, riconsiderare magari degli immobili anche di proprietà del comune, dove costruire non solo un dormitorio ma anche una situazione molto più ampia che richiama anche la mensa e altri servizi che servono a queste persone. In questi giorni molto scarpore ha destato la denuncia di Antonio Terramano, 72 anni, senza reddito, costretto a vivere in una roulotte ma forse la storia non è proprio così. Ha detto molte bugie purtroppo perché non è vero, perché Antonio che dice di vivere in una roulotte e di non avere un reddito io in realtà rispondo che ha una casa popolare, una pensione, un reddito di cittadinanza e anche altri bonus che rientrano nell'assistenza che dà come comune.